Quindi, dicevamo che la proposta è stata fatta, diciamo, trasversalmente in questi anni, così come dicevamo che trasversalmente è stato riconosciuto da tutti come ci fosse un problema nel nostro sistema, e cioè la debolezza della funzione di governo, la sua tragica precarietà, che porta con sé come un domino diversi problemi che noi abbiamo conosciuto. Allora, questo è un fatto testimoniato dalla storia e dai numeri. In 75 anni di Repubblica in Italia si sono succeduti 68 governi, con 31 presidenti del Consiglio la durata media dei governi è stata poco più di un anno. Vi basti sapere che con i suoi 564 giorni di governo oggi, attualmente il governo che io presiedo è il sedicesimo in longevità su 68 della storia d'Italia. Se questo governo arriverà alle elezioni europee sarà tredicesimo, se dovesse mangiare il panettone diventerebbe il sesto, tanto è facile risalire questa illuminante classifica sulla durata dei governi nella storia d'Italia. E qual è il problema? Ogni volta che il governo è cambiato, per un'altra tendenza che è un po' tutta italiana, si è anche ricominciato da capo su tutto. Un po' per necessità e un po' per scelta e questo non accade in altri sistemi, non accade in altri sistemi dove insomma su alcune grandi questioni fondamentali, indipendentemente dal mutare dei governi, le cose vanno avanti seguendo sempre una stessa linea da noi, non è così. Quindi noi dobbiamo anche valutare l'impatto che il nostro funzionamento ha sul popolo, sulla realtà politica che siamo. Si è ricominciato su tutto e chiaramente come dicevo questa instabilità a cascata porta con sé molti problemi importanti e significativi.